Ciao a tutti, sono Mary Carbone, sono qui per lanciare la mia nuova iniziativa. La May Models Milano, in collaborazione con la AA Studios, organizzano un corso di portamento realizzato per tutti gli aspiranti modelli che intendono intraprendere il mondo della moda e dello spettacolo. Per tutte le info, seguiteci sui nostri social e chiamateci ai numeri che vedete in sovraimpressione. Vi mando un abbraccio, un bacio dalla vostra Mary Carbone.